Reporter diffuso, buongiorno. Non capita tutti i giorni di avere come ospite un politico con cui si possa parlare di internet e ancora meglio un ministro con cui si possa parlare di internet. Ecco quindi che oggi abbiamo una puntata un po' speciale di Reporter diffuso, anche con una ambientazione diversa rispetto al solito e iniziamo subito perché abbiamo tantissimi argomenti da affrontare. Anzitutto vi ricordo come sempre il nostro indirizzo mail reporterdiffusocchiocciolaskytv.it e l'indirizzo di casa mia skytg24.blogs.com. Vi ringrazio moltissimo perché mi avete dato anche questa settimana moltissime segnalazioni e moltissimi argomenti. Allora, vi presento l'ospite di oggi, il ministro Paolo Gentiloni. Grazie ministro per essere qui con noi. Grazie a voi, buongiorno. Il primo argomento che vorrei affrontare con lei è quello che sta tenendo banco ormai da una decina di giorni ed è quello che riguarda i video di bullismo e il loro rapporto con internet. Noi di Reporter Diffuso ne abbiamo parlato già ovviamente la scorsa settimana, abbiamo sottolineato il fatto che è importante entrare nel merito di questi contenuti che ci sono ovviamente da tempo e forse in Italia proprio per il fatto che riguardano contenuti italiani hanno fatto molto discutere. Però vedrei un servizio ad hoc su questo e poi lo commentiamo con il ministro Gentiloni. Le immagini dei maltrattamenti a ragazzo disabile di Milano dalla rete sono finiti sul tavolo della procura milanese e poi il 12 novembre su tutte le prime pagine dei giornali, riaprendo il caso Bullismo nelle scuole. Il video era al 29esimo posto tra i più visti di Google e il motore di ricerca è stato denunciato dall'associazione Vivi Down che ha scovato il filmato per il mancato controllo prima della diffusione. Ma il caso di Milano si è rivelato solo il primo di una lunga serie di immagini di violenza nelle scuole italiane. Il 17 novembre Repubblica.it pubblica alcuni filmati trovati sulla rete. Uno studente che punta alla tempe del professore una pistola giocattolo, banchi e sedie lanciati nei corridoi, accendini che diventano lanciafiamme, un ragazzo che avvolge la testa di un insegnante in un giornale, immagini agghiaccianti che lanciano l'allarme del bullismo nell'era di internet. Credo che il termine bullo non coincida con l'esperienza che noi abbiamo di fronte in queste ore. Credo che si tratta di fenomeni ben più gravi e più seri quando riguardano i ragazzi al di sopra dei 14 anni. Ma credo anche che è del tutto evidente come siamo anche in presenza di una trasformazione che in precedenza non era mai avvenuta, ritengo in questo modo, di un fatto che è tale non solo per l'averlo compiuto, quanto per la necessità di averlo documentato, filmato e trasmesso. Ma preoccupare il ministro Giuseppe Fioroni non sono solo i nuovi canali di diffusione della violenza, ma anche, come specificato a microfoni di Skype G24, i modelli offerti da internet e tv ai nostri giovani. È un fenomeno che si intersega con la comunicazione che pervade la rete, che pervade i nostri telefonini, che pervade il sentirsi protagonisti e affermati in base a come si appare e si appare a qualunque costo. E credo che su questo, dai rete televisivi alla comunicazione fatta a spettacolo, hanno responsabilità e rispetto alle quali dobbiamo riflettere. Un internet senza regole, un videogioco senza regole, da un'immagine ai nostri ragazzi nell'età dell'adolescenza, che hanno enorme potenzialità, dall'idea che la violenza sia la normalità e che di violenza, se si appare, si può anche essere protagonista. Ecco quindi moltissimi spunti di discussione. Entrei subito nel merito pensando alle parole del ministro dell'istruzione, Fioroni. Ministro Gentiloni, c'è bisogno, secondo lei, di una regolamentazione di internet? Come vede il fenomeno che si sta verificando? Certamente capisco la preoccupazione del ministro Fioroni. Fioroni. Bisogna ovviamente premettere il fatto che la rete è innanzitutto una straordinaria opportunità per i giovani e per tutti noi di arricchimento di conoscenza, di informazione, di scambio. Attenti a non criminalizzarla per alcuni episodi. Ma non c'è dubbio tuttavia che fenomeni che magari sono sempre stati presenti delle scuole di violenza, le vigliaccate che vengono definite bullismo, episodi di prevaricazione, trovano nella possibilità di essere diffusi nella rete, anche magari motivo per moltiplicarsi. regole. Io penso che l'oggetto va maneggiato con grande cura, significa che si possono e si devono affermare alcuni principi, si è parlato ad esempio di formule tipo carte costituzionali, carte dei diritti, e bisogna promuovere nei motori di ricerca e negli operatori principali della rete la possibilità che questi principi vengano fatti osservare. Ecco, Ministro, scusate se ne interrompo, non crede che una regolamentazione in ogni caso abbia bisogno di essere una regolamentazione globale, proprio perché YouTube si è parlato molto di YouTube di recente, sito di video, Google Video, ma ce ne sono oltre 100 di siti al momento di video, sono per lo più siti stranieri. Come possiamo regolamentare, le chiedo, visto che lei è anche blogger, quindi ha un'esperienza quasi da detto ai lavori, secondo lei è possibile affrontare il problema come alcuni politici hanno sottolineato solamente in Italia, solamente localmente? È molto difficile, d'altra parte dobbiamo, facciamo prima una distinzione, naturalmente l'azione repressiva è sempre possibile su segnalazione di forme di particolare violazione, ad esempio il caso di cui si sono occupate molto le cronache in questi giorni, il caso della scuola torinese e delle violenze sul ragazzo diversamente abile, è un caso che sulla base della segnalazione di un'associazione ha indotto la Polizia delle Comunicazioni a disattivare il sito che trasmetteva quel video. Quindi di repressione si può sempre parlare, regole generali che non abbiano una dimensione globale sono molto più difficili naturalmente, faccio anche qui un esempio di questi giorni, in sede europea si sta discutendo in questi mesi una direttiva che è intestata alla televisione, nel senso che in gergo si chiama direttiva TV senza frontiere 2, sembra il titolo di un film, in realtà nella TV senza frontiere 2 si estendono anche ai nuovi servizi media alcuni principi generali. Tuttavia la discussione tra i diversi governi europei ha visto soltanto alcuni paesi, tra cui l'Italia e la Francia, favorevoli a che alcuni grandi principi, virgolette, costituenti possano applicarsi anche alla rete. La maggior parte dei paesi europei dice per il momento limitiamoci ad applicarli alle nuove forme di televisione digitale, televisione on demand e rinviamo all'anno prossimo la discussione se si possano applicare alla rete. Quindi necessità ma comunque grande difficoltà poi di gestione? Difficoltà e anche interessi naturalmente perché non c'è dubbio che alcuni grandi siti di social networking che fanno ormai fatturati di centinaia di milioni vedono con grande preoccupazione delle regole. Io capisco la preoccupazione ma penso che alcune grandi regole di riferimento andrebbero inserite per evitare che scattino meccanismi molto più severi e punitivi magari sulla base di ondate emotive. Ecco avete sentito il Ministro Gentiloni parlare di social networking. Io ci tengo a sottolineare questo aspetto perché non è comune trovare un politico che abbia delle reali competenze di internet e in particolare il Ministro Gentiloni ha un blog che seguo ormai credo da un paio d'anni, il Ministro mi correga se sbaglio ma mi sembra circa un paio d'anni, lo aggiorna l'ultimo post, sono andato a verificare, è del 22, quindi è regolarmente aggiornato e mi interessava far capire che cosa vuol dire anzitutto per un Ministro seguire un blog e poi perché ha deciso di utilizzare questo strumento? Ma io ho cominciato a fare il blog quando ero semplicemente un parlamentare della Margherita che si occupava molto di comunicazione, molto di comunicazione politica, mi sono occupato molto nella mia vita di campagne elettorali e direi che sono arrivato ai blog per una via abbastanza particolare, cioè i blog di informazione politica, soprattutto negli Stati Uniti, che hanno avuto un ruolo importantissimo, basti pensare a alcuni grandi episodi, non so, lo scandalo Clinton sono usciti prima nei blog, prima ancora che nei mezzi di informazione, dopodiché certamente da Ministro la faccenda è un po' complicata. Lei quando lo aggiorna il blog, è una mia curiosità personale? Non c'è una regola di nessun tipo, capita a un certo punto che, non so, ogni tanto magari alle due, due e un quarto del pomeriggio uno trova un quarto d'ora in cui non ci sono riunioni o telefonate e aggiorna il blog. Il ruolo degli utenti per quello che riguarda il suo blog, che tipo di ruolo è? Ci sono dei commenti, ho visto moderati, quindi io posso commentare dei suoi post, dei suoi articoli, c'è una moderazione poi per vedere quali commenti pubblicare o meno. Che ruolo hanno i lettori del suo blog? Per la legge Gentiloni l'hanno consigliata magari in qualche modo? Io lì ho fatto una scelta abbastanza particolare e un po' controversa tra i frequentatori del mio blog, cioè non parlo di questioni di ufficio, parlo ovviamente di questioni di attualità, politiche, ma non uso il blog per anticipare provvedimenti, decreti, disegni di legge perché lo troverei francamente improprio e perché non voglio fare concorrenza al sito del Ministero delle comunicazioni. Molti non hanno condiviso, perché capisco benissimo che chi frequenta la rete becca un blog di un Ministro e vorrebbe intrecciare la spada con il Ministro il più delle volte, come è giusto criticamente, sulle cose di sua competenza. Ma io penso che sulle cose di mia competenza non sarebbe corretto anticipare o discutere questioni in uno strumento come un blog, d'altra parte ci sono tante cose politiche e di attualità di cui discutere. Va bene, paologentiloni.it, lo ricordo l'indirizzo del blog, vediamo adesso Ministro alcune notizie della settimana, poi le commentiamo insieme. Notizie della settimana. Italiani sempre più online. Secondo i dati relativi al mese di ottobre, resi noti dagli analisti Nielsen Tradings, in Italia non si ferma la crescita degli accessi a Internet. Nel mese scorso sono stati 17,7 milioni gli italiani che si sono connessi almeno una volta al web, 19,8 milioni se includiamo anche coloro che hanno utilizzato un instant messenger o scaricato musica o film. Per quanto riguarda il tipo di siti più visitati invece non ci sono grandi novità. L'86% dei navigatori ad ottobre ha visitato portali e motori di ricerca, il 69% un sito di intrattenimento, il 62% uno di news. In crescita anche la categoria finanza trainata dal banking online, dalle informazioni di tipo finanziario e dalla crescita generalizzata nel mese dei siti di assicurazioni, prestiti e pagamenti online. Particolarmente visitati infine anche i siti dedicati alla salute e al benessere, alla casa e al giardinaggio e alla famiglia e al lifestyle. Ad una settimana dal suo debutto nelle sale cinematografiche britanniche il nuovo film su James Bond Casino Royale è già stato clonato in 250 mila copie scaricate illegalmente dalla rete. Un primato negativo per il ventunesimo episodio della saga di 007 che nel primo weekend di programmazione ha incassato al botteghino circa 65 milioni di euro. La prima versione disponibile della pellicola consisteva in una registrazione di bassa qualità, fatta con una telecamera e in un cinema russo, ma ben presto è diventato possibile scaricare altre copie di qualità migliori. Record positivo invece per il titolo di Google, il primo motore di ricerca del mondo su internet che ha superato per la prima volta la soglia dei 500 dollari ad azione a Wall Street. Le azioni di Google sono risalite del 37% dai minimi di questa estate, confermando che il gruppo è il solo in grado di contendere a Microsoft il primato tra le aziende leader delle nuove tecnologie. Il valore di capitalizzazione di Google è salito a 153 miliardi di dollari, circa la metà di quello di Microsoft, mentre la sua capacità di monetizzare con la pubblicità e il traffico su internet ha creato un nuovo modello di business che sta mettendo in seria difficoltà il tradizionale business dei pacchetti software dell'azienda di Bill Gates. Le azioni di Google valevano 85 dollari nell'agosto del 2005, quando la società debutò a Wall Street e già nel novembre scorso erano lievitate a 400 dollari. Quindi abbiamo visto diffusione internet in Italia, un tema che a me sta veramente a cuore e sul blog di SkyTG24. Io raccolgo continuamente commenti richieste da parte di addetti ai lavori, ma anche utenti normalissimi. I problemi li sappiamo, siamo indietro come diffusione del web, molti lamentano, soprattutto al sud, molti lettori mi segnalano la mancanza di ADSL, la difficoltà di connettersi. Allora io volevo approfittare della presenza del Ministro Gentiloni, mentre intanto vediamo un video su quello che potrebbe essere il futuro di internet EPIC 2015, si chiama. Ministro, che cosa questo governo farà per la diffusione di internet e se lei ha una ricetta, le chiedo veramente di darci dei casi pratici o qualcosa di concreto? L'obiettivo della diffusione naturalmente dipende in parte molto consistente dalle imprese private e in primo luogo dalle imprese che hanno ereditato la grande infrastruttura di telecomunicazione, quindi parlo di telecom. Il futuro degli investimenti nella rete dipende in primo luogo da, stiamo parlando di investimenti di miliardi di Euro all'anno, dal fatto che da noi come in altri paesi, quelli che in gergo si chiamano incumbent, sviluppino questi investimenti. Il governo in questo senso può avere una funzione di sorvegliare che questo avvenga. Dall'altra parte noi proprio la prossima settimana faremo partire una cabina di regia di tre diversi ministeri che hanno competenza nella diffusione di internet e in particolare della banda larga, che sono il Ministero delle Comunicazioni, dell'innovazione e degli affari regionali. In questa operazione cercheremo di ottimizzare e mettere insieme le diverse risorse pubbliche che si stanno spendendo in questa materia. Non è che ci sono tantissimi soldi in finanziaria e tuttavia ci sono un po' di soldi in finanziaria a livello generale di governo. È pieno di quattrini pubblici che le regioni e diversi enti locali stanno spendendo per cercare di coprire i buchi che anche la DSL ha oggi e ancora di più la DSL2 e la banda larga hanno oggi nel nostro territorio. La mappa va costruita assieme dalle imprese, dal governo, dalle regioni e degli enti locali. La novità della prossima settimana sarà la nascita di una cabina di regia in cui tutti questi investimenti cercheremo di ottimizzarli per evitare che zone del paese restino indietro. Terremo d'occhio questa cabina di regia. Internet e politica, tema interessantissimo. Giusto uno spunto sulle campagne politiche online. Che impatto può avere Internet in Italia per quello che saranno le prossime elezioni, ma anche partendo da adesso? Lei che idea si è fatta da blogger e da ministro? Penso che la rete abbia sulla politica due o tre funzioni molto importanti. La prima è una funzione di informazione, controinformazione. Intanto mi scusi ministro, stiamo vedendo un esempio di un video blog, di una blogger politica americana molto famosa. Molte notizie sono uscite su Internet, molta controinformazione rispetto a quello che viene detto da un politico in televisione o rispetto ai messaggi pubblicitari della politica che avvengono contrastate su Internet. Quindi prima di tutto informazione e controinformazione. Secondo direi certamente mobilitazione dei sostenitori, degli aderenti che vengono molto facilmente tra virgolette coinvolti, arruolati nella rete. In America questo è anche molto legato alla raccolta di fondi, da noi un po' meno. E in terzo luogo invece Internet, proprio come un classico meccanismo di mobilitazione, lo schema Meetup per capirci, cioè attraverso la rete, attraverso siti politici, costruire occasioni di incontro e di mobilitazione. Meetup è quello ricordo agli spettatori meno attenti, un sito lanciato appunto da Howard Dean, usato anche di recente da Grillo per incontrarsi poi offline. Ministro Gentiloni, arriviamo a una parte più leggera, sono dei video cosiddetti pazzeschi presi dalla rete, li vediamo insieme, video pazzeschi. Il primo video che vi ho portato questa settimana è un video decisamente amatoriale, che è stato rimbalzato da Boing Boing, blog più visto, più famoso al mondo, che spesso citiamo proprio perché ha tutti questi video molto curiosi, ed è una metropolitana di Mosca, sembrerebbe, da quello che sono i dati a disposizione, dove dei reporter diffusi in metro, li potremmo definire così, hanno ripreso questa fila, questa coda oceanica che c'è dentro al metro. Altro esempio, altra declinazione del reporter diffuso. Un altro video amatoriale, è molto curioso, basato sull'originalità, se vi siete mai chiesti come può un ragazzino bianco schiacciare a canestro, ecco questa è una soluzione. In pratica sono due compagni di squadra che riescono a andare a portare la schiacciata al uno dei due, e vedete, il compagno si piega e lo fa schiacciare. Un altro video curioso, molto interessante per quello che riguarda il rapporto televisione e internet, è un video trasmesso da una televisione americana, in cui viene stoppato da un giocatore molto piccolo, che è alto un metro e sessanta, vedete, stoppa questo gigante cinese famosissimo ed è un esempio soprattutto di come può essere importante internet per la divulgazione proprio della televisione, che è un tema poi importante della legge Gentiloni. Più difficile, Ministro, per concludere una battuta finale, andare a stoppare un gigante e se do alti un metro e sessanta, portare avanti la legge Gentiloni? C'è qualche livello di paragone possibile, nel senso che anche noi abbiamo a che fare con dei giganti nella televisione italiana e che devono proiettarsi sul futuro. Il panorama televisivo cambierà, si incrocerà sempre più anche con internet ed è un buon motivo in più per favorirne l'apertura e la liberalizzazione. Aggiungo soltanto, per fare i complimenti anche alla vostra trasmissione, che una delle cose importanti che la televisione deve fare, e deve fare forse più di quanto faccia adesso, è divulgazione sull'utilizzo della rete e alfabetizzazione su queste cose, che è molto importante. La ringrazio molto e concordiamo in pieno, io la ringrazio moltissimo per essere stati qui con noi, ricordo reporter diffuso, chioccio la sky tv.it, il nostro indirizzo mail, sky tg24.blogs.com, l'indirizzo di casa mia, ringrazio ancora il ministro Gentiloni, noi ci vediamo un saluto prossimo, arrivederci.